Ciao ragazze, eccomi ritornata a Milano dopo la mia penultima vacanza in Calabria ovviamente ringrazio e sono stata felicissima di incontrare le ragazze a Sibari e ringrazio anche tanto i rispettivi ragazzi che le hanno gentilmente accompagnate ringrazio tantissimo anche Nadia della Bottega del Corallo che mi ha fatto veramente un pensierino molto carino e che purtroppo non è potuta venire con noi comunque vi ringrazio in generale, è stata una serata bellissima, sono stata veramente bene è stata proprio una di quelle classiche serate tranquille, tra amiche, a parlare del più, del meno bellissimo, davvero vi ringrazio tantissimo e ricordo per il 30 agosto alle ragazze pugliesi non vedo veramente l'ora di andare anche in Puglia, io non ci sono mai stata e fare anche l'incontro con voi per me sarà veramente una vacanza straemozionante anche se durerà solo 4 giorni appunto il 29 partirà in Puglia, il 30 ci sarà l'incontro a vari comunque vi rimetto il link qua per sapere tutte le informazioni per quella giornata e quindi niente, passiamo al video in questo video voglio parlarvi appunto dei vari solari che ho avuto modo di provare in queste due mie vacanze a Mallorca e in Calabria essendo io appunto un amante un amante della tintarella, del mare, del sole, della spiaggia insomma, amo l'estate amo l'estate e ovviamente amo anche prendere il sole sempre però in modo protetto sempre con le dovute precauzioni cosa importantissima prima di partire sia in Spagna sia in Calabria ho esfoliato bene la mia pelle sia quella del corpo che quella del viso come sappiamo di scrub, peeling, in commercio ce ne sono davvero tantissimi anche se, devo essere sincera preferisco il classico zucchero miele per il corpo e zucchero miele limone per il viso avendo io anche una pelle mista e parecchio anche grassa in estate esposta al sole ovviamente ho fatto uso di solari e devo essere sincera per il corpo dovrei utilizzare una protezione 30 e non la 50 perché con la 50, devo essere sincera se la uso sul corpo non mi abbronzo minimamente cioè non prendo il sole per nulla davvero giuro cioè come arrivo al mare così torno a casa comunque utilizzo una protezione bassa anche perché non ho la pelle che che si brucia subito non mi brucio non mi scotta non mi fa male e divento tendo a diventare la mia pelle tende a diventare subito scura non rossa bruna e quelle che ho usato quest'anno sono queste due e un'altra di bottega verde mi sembra cocco e mango che è buonissima questo solare qui che è appunto di L'Oreal con effetto icy lo consiglio a tutte quelle ragazze che magari soffrono tanto cioè amano prendere il sole ma soffrono tantissimo il caldo perché questo subito una volta applicato da subito con la sensazione da subito una sensazione appunto di freschezza questa qua invece è buonissima e questa qua è una mini size che ho trovato nel giornalino to style mi sembra un mesetto prima di partire ed è buonissima ha un odore tropicale proprio fantastico è della Hawaiian Tropic e penso che in generale tutti i solari Hawaiian Tropic assieme a quelli di Bottega Verde almeno per esperienza personale per ciò che ho provato io siano insomma i solari che preferisco per quanto riguarda il viso ora mi sembra di averlo dimenticato in Calabria però ho utilizzato sempre una protezione di L'Oreal però che si apre con il tappino che gira mi sembra sia nuova ed è gold gold effect comunque per il viso utilizzo sempre la protezione 50 sia perché la pelle del mio viso è a tendenza acneica soprattutto se prendo il sole magari non nel momento in cui mi abbronzo ma sicuramente nel momento in cui torno a casa e quindi proteggo veramente molto bene il viso devo essere sincera quella lì mi è piaciuta a livello di protezione ma non mi è piaciuta affatto per la pelle del viso soprattutto se ha tendenza acneica perché appunto nonostante io abbia usato la protezione anzi è uno di quei classici solari che accentua i problemi cutanei di chi già ne ha mi ci sono trovata malissimo non per niente bene a livello di protezione penso sia ottima per il corpo e per il viso di una ragazza che non ha problemi di acne ma per me o per le ragazze che hanno la pelle grassa con problemi non penso sia il massimo altro solare viso che ho utilizzato è questo qui di bottega verde protezione media 15 super abbronzante anti rughe insomma che mi sembra un po' un controsenso però non mi ci sono trovata male solo che penso sia davvero troppo leggera soprattutto per quelle ragazze molto bianche l'ho trovata leggera su di me sul mio viso quindi figuriamoci su chi magari ha la pelle molto sensibile parliamo ora invece di dopo sole dopo sole che non mi è piaciuto affatto e ne ho due non so assolutamente cosa farmene è questo qui sembra della stessa linea del solare sempre effetto icy il solare mi è piaciuto ecco il dopo sole assolutamente no l'ho utilizzato una volta e una seconda volta per cercare di dargli un minimo di speranza ma niente da fare è uno forse dei peggiori dopo sole che io abbia mai provato non mi piace proprio sembra che invece di idratare sporchi la pelle ci si sente quasi si ha una sensazione quasi di di sudore cioè è appiccicoso è bruttissima la sensazione che stiamo utilizzando questo dopo sole non so se qualche ragazza si è trovata bene non so neanche come abbia fatto però davvero non questo qui bocciato al massimo dopo sole che invece mi è piaciuto molto è questo qui del sito la natura ti cura più punto it che è una crema dopo sole all'aloe emolliente idratante questa mi è piaciuta tantissimo sia per quanto riguarda il profumo la profumazione e sia per quanto riguarda l'idratazione che lascia sulla pelle mi è piaciuta davvero tanto anche se vi farò breve una review su questi prodotti del sito la natura ti cura perché non mi sono piaciuti tutti e non mi è piaciuto in particolar modo il fatto che l'inci non è affatto al 100% naturale quindi sono prodotti insomma normali non proprio naturali crema dopo sole che mi è piaciuta per il viso è questa qua di bottega verde che è Monoi de Tahiti crema viso dopo sole idratante e questa qui l'ho presa perché era in offerta se non sbaglio in offerta con il solare se non sbaglio e devo essere sincera mi è piaciuta tanto è davvero molto idratante a livello di profumazione non è il massimo deve piacere però non è così forte e quindi non resiste a lungo sulla pelle però è davvero idratante mi è piaciuta parecchio altra crema che ho utilizzato come dopo sole e che è una crema magnifica sia per il corpo che per il viso è questa qui che è un'edizione limitata della Planters costa 10 euro al barattolo quindi non poco però è una crema al 100% naturale come tutti i prodotti Planters ed ha una profumazione di burro di karité veramente fantastica anche questa è a base di aloe vera ed è una crema riparatrice c'è scritto appunto viso, mani e corpo soprattutto per quelle zone che si seccano maggiormente soprattutto stando al mare non lo so i piedi le mani il viso il contorno occhi e quindi mi è piaciuta veramente tantissimo consiglio importantissimo per tutte quelle donne ragazze che come me si ritrovano sempre all'ultimo minuto dunque due o tre giorni prima di andare al mare a fare la ceretta e quindi si ritrovano un giorno prima di appunto di andare al mare con la pelle arrossata davvero troppo sensibile con puntini rossi e cose brutte insomma cosa utilizzo io come rimedio SOS proprio rimedio all'ultimo minuto per proteggere idratare e curare la pelle questo qui questo qui è praticamente una salvezza è la crema della veleda baby appunto per bambini viso e corpo alla calendula come sapete appunto la calendula per i rossori per i vari rossori la pelle è una manna dal cielo e quindi questa crema mi ha sempre aiutato tantissimo e ve la consiglio perché davvero in poco tempo nel giro di una notte vi migliora l'aspetto della pelle a vista d'occhio passiamo ora alla protezione capelli io vi consiglio questo spray questo latte solare da spruzzare su tutti i capelli in particolare sulle sulle punte di Kerastase Kerastase Soleil appunto altro prodotto che utilizzo come protezione per i raggi UV sui capelli e questo olietto qui che è l'olio di macadamia che mi avevano dato come sample appunto come campioncino in fiera a Bologna per quanto riguarda invece la protezione post lavaggio quindi una volta che siamo ritornati dal mare ci siamo lavati i capelli e abbiamo applicato la nostra crema il nostro balsamo ristrutturante è applicare sempre o un olio sulle punte oppure vi consiglio è sempre questo prodotto qui di cui vi ho già parlato nei prodotti preferiti per l'estate che è appunto l'Oil Noil di Dobrasil questo olio che in realtà non ha proprio la consistenza di un olio che però è ottimo per le punte perché rende i capelli molto più più facili da districare molto più morbidi e appunto non appesantisce l'altro prodotto ottimo è questo qui di Bottega Verde è appunto il balsamo senza risciacquo che io utilizzo sulle punte con tanta parsimonia ovviamente non mi metto lì a spruzzarne quintali proprio due spruzzi anche se ho utilizzato una crema o un balsamo perché è ottimo per appunto mentre i capelli magari si asciugano al vento è ottimo per appunto tenere i capelli morbidi altro prodotto che vi consiglio che non è né una protezione ma è un prodotto che ho trovato davvero molto carino è questo qui questo prodottino qua di L'Oreal che si chiama Matte and Messy ovvero è uno spray che promette di ottenere sui capelli bagnati sui capelli umidi dopo il lavaggio un effetto proprio post mare un effetto di capelli naturali con un po' di onde un po' di volume e l'effetto un po' bagnato ma allo stesso tempo opaco quindi non non unto diciamo e mi sono trovata bene mi sono trovata bene perché magari quando volevo avere quell'effetto un po' più scompigliato appunto un po' più voluminoso sulle punte dopo aver applicato il balsamo e anche qua insomma qua dietro applicavo un po' di questo spray alzando leggermente in questo modo dei capelli e in questo modo creavo un po' di volume e l'effetto dei capelli era molto molto naturale e quindi niente ragazzi il video è finito io spero vi sia piaciuto spero vi abbia dato dei consigli degli utili consigli per le vostre prossime vacanze se non per quest'anno se non per questa stagione per la prossima se non per quest'anno appunto per il prossimo e quindi niente ragazzi io vi mando un grosso bacio come al solito ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti